Sembra il segno di qualcos'altro. Ragazzi! Davanti! La qualità qua? Non davanti a me! Faccio una foto davanti! Facciamo una foto davanti! Scusate! Ok! Prego! Grazie! Grazie! Anche di qua grazie! Un attimo! Guardate al centro! Va sotto! Non si è resti più! No, siamo ora di stare qui! Possiamo farmi guardare che ci vediamo! Perfetto! Ok! Via! Grazie! 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 Ce li passate? Ce li fate vedere avanti? No, no, no! Capite! Fermate! Abbassatevi un pochetto! Abbassatevi! Giù giù! Togli! Togli la marca! Ok! Grazie! Un attimo! Un attimo! Un attimo! Un attimo! Perfetto!